Non finirò mai di ripeterlo, la musica è un antidepressivo naturale, poi soprattutto in questo periodo è importantissimo averla come colonna sonora delle nostre giornate. In più facciamo del bene alle nostre orchestre che ci regalano sempre tante emozioni, per cui ho ideato un altro nuovo pacchetto proprio perché portiate a casa della bellissima musica, che poi è la musica che sentite in ogni nostra puntata e devo dire che questo nuovo pacchetto ha dei titoli davvero evocativi, infatti tre sono i cd, fateci cantare, fateci ballare e fateci suonare. All'interno trovate i brani che vi regaliamo in ogni puntata, per cui Parlami di te, di Castellina Pasi e poi Quel gelato di Giampiero Vincenzi, La vite fatascale di Patrizia Ceccarelli e Dania Danimos e tantissimi altri sono i bellissimi brani che racchiude questa compilation. Come sempre vi regaliamo un quarto cd all'interno del pacchetto di questo grandissimo fisarmonicista che è stato poi il fisarmonicista dell'orchestra Castellina Pasi, Davide Budellacci. Come sempre 4 cd a soli 39 euro, vuol dire che quando arriva il postino e suona la porta non dovete fare altro che consegnare 39 euro in contanti e ritirare il pacco. 39 euro vuol dire meno di 10 euro ogni cd e le spese di spedizione e di contrassegno gliele mettiamo noi. Questo perché vogliamo davvero far girare la musica, perché la musica è vita. Aspetto le vostre telefonate.